Un episodio divertente e umiliante, un bambino italo-pachistano mi ha umiliata pubblicamente a lezione, 9-10 anni, praticando benissimo, era un elastico, non solo mettendosi in sirshasana che è la celebrare in una posizione sulla testa, dove c'è stato un minuto e io sono caduta in preda all'emozione e ho fatto una lezione disastrosa, però è finito tutto in un gran sorriso.